A tutti i costi dobbiamo creare? Non credo. A tutti i costi dobbiamo venire a questa identità golosa presentando dei piatto che non hanno senso per compiere una plattea che dici ma non è possibile, non avrà nessun gusto, non avrà nessun filo, un motoro questo piatto. Non credo. Certe volte credo che mi piaccia sedermi da sole e pensare a fare le cose bene. L'ho detto appena poc'anzi sono stato da Francia e via dice gli altri paesi. Per dieci anni magari non ci sarà nessuna altra novità. Fu di innovation non sapevo come identificarlo per il momento, almeno per l'unico. Stiamo andando a una velocità tale che direi scendiamo dal treno, fermiamoci, ci guardiamo e cosa stiamo facendo? Vabbè, presentato un'ora fa dei concetti alla lezione di pasta, il futuro si baserà su quello che sono le personalizzazioni dei gusti intese come costruzione di molecole di gusti che non esistono e che gli chef avranno come tailor made, fatti per se stessi. Detto brutalmente ma molto virgolettato è un discorso di essenza che oggi capelli dritti a sentire a parlare o presentare una cosa del genere tra tre anni sarà normale. food innovation io vedo che è tutto ciò che migliora l'apporto nutritivo dei piatti, tutto quello che ci porta a un cibo migliore, un cibo migliore in tutti i sensi nei valori gustativi, né valori nutritivi né valori di bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.